Il posticipo dell'undicesima giornata mette di fronte il Benevento e il Potenza, i Sanniti di Andreoletti a caccia del secondo posto e i Lucani di Lerda della continuità dopo i quattro punti in due gare nella nuova gestione tecnica. Giallo-Rossi con il 3-4-2-1, Paleari tra i pali, Capellini, Pastine e Berra in difesa e quindi a centrocampo sono in prota a destra e Masciangelo a sinistra a dare manforti al duo in mediana composto da Attalia e Agazzi. Carice e Bolsius a supporto di Alexis Ferrante, dall'altra parte la coppia Catturano-Asenzio con Di Grazia sulla tre quarti. Match equilibrato al Vigorito che si sblocca al minuto 33 con un gol di Masciangelo. La sterzata sul destro e il tiro deviato da Armini fanno 1-0 per i padroni di casa. Si sblocca il punteggio in un primo tempo davvero povero di emozioni. Ripresa più vivace al Vigorito con il Benevento che si affaccia più volte dalle parti di Gasparini divorandosi diverse occasioni da rete. Importante anche l'ingresso di Camillo Ciano ad illuminare l'attacco giallo-rosso. L'ultima occasione della gara è per il Potenza che però non riesce a concretizzare nell'area avversaria. Vince il Benevento, finisce 1-0. Sanniti che salgono a quota 22 punti in classifica e agganciano l'Avellino. Lupi però secondi per differenza reti.